Ciao a tutti ragazzi sono Mario del Pianeta Hobby Ciao, sono Mario ho aiutato anche qui oggi vi presentiamo i nuovi prodotti che potete trovare sul nostro catalogo online in negozio e in esclusiva anche alla fiera di lucca che si terrà tra poco e parliamo delle 3D Deco Lights ovvero delle lampade in tre dimensione che si accendono e ti possono illuminare tutta la camera le lampade sono dedicate ai personaggi principali di Star Wars e della Marvel come la maschera di Darth Vader il menhir di Thor poi abbiamo lo scudo di Capitano America e tanti altri personaggi che si vedono nei film che sono dati cult negli ultimi anni queste lampade come vedete sono a luci in LED quindi non si riscaldano non danno fastidio agli occhi e come vedete sembrano proprio attaccate al muro lo vedete da qua non hanno bisogno di cavi o di batterie o di cose stranissime che non avete la più pallida idea ma semplicemente tre pile classiche da poter attaccare al dietro, al retro della lampada che volete scegliere chiudere accendere da qui e potete anche andare in giro per casa con questo questo è molto molto bello tra l'altro è uno dei miei preferiti adesso io devo spaccare tutto la linea è composta praticamente da Star Wars Marvel come dicevo poi ci saranno altri prodotti di Transformers nuovi prodotti di Minions o addirittura delle Trattorove Ninja ma noi allungheremo il nostro catalogo con i nuovi prodotti volta per volta ci sono chiaramente anche altri prodotti classici come palle da basket palle da tennis per chi ama lo sport sono tutte dedicate chiaramente al mondo del calcio del tennis del basket per quanto riguarda lo sport e la caratteristica particolare di questi di Star Wars che oltre ad accendersi e spegnersi se qualcuno di notte ha paura del buio di qualche altro mostri speciali poi dopo una volta spiegato questo la pratica hai un'opzione per mettere il timer il timer come funziona? tu lo metti attivo per 30 minuti la lampada funziona così una persona che lo riceve in questa gara a paura del buio si addormenta la lampada si spegne e ritorna a essere in modalità spenta automatica non si spreca quindi batteria il timer a momento c'erano solo quelle di Star Wars più avanti poi le faranno anche per queste qua della Marvel all'interno delle mie confezioni tra l'altro vi ricordo che sono della Philips quindi mica una marca da ridere trovate le istruzioni per montarlo quello che è come dimensioni del prodotto che state cercando in questo caso per esempio è lunga 16 centimetri e mezzo questa quasi come potete le istruzioni per come si montano e all'interno trovate tutte le informazioni necessarie per come funziona come si attacca l'adesivo perché ancora non ve l'ho spiegato adesso vi spiegherò e come si agganciano le viti al muro è semplicissimo dentro la confezione trovate una decoll con lo stampo della rampa che volete prendere questo è quello di Darth Vader la appiccicate al muro che si è in adesiva staccate il foglio piano piano per farlo rimanere sul muro e all'interno del foglio trovate dei tasselli da dover utilizzare un cacciavite o qualcosa per poterlo forare e inserire le due vitine fatto questo dovete poi semplicemente attaccare la rampa e per magia avete la faccia di Darth Vader o il martello di Thor che esce dal muro qui vedete tutta la nostra linea tutto il nostro catalogo dal vivo tutti i prodotti di Star Wars della Marvel della Disney tipo Frozen e dello Sport potete trovare tutti questi prodotti sul nostro sito pianetaobbio.it nella sezione lampade e oltre a queste lampade ce ne saranno altre nuove che usciranno a novembre non vi spoilerò niente ma tipo Minions Batman Superman con l'uscita del nuovo film e probabilmente anche Deadpool voi penserete è incredibile potete trovare tutti questi prodotti sul nostro sito pianetaobbio.it nella sezione lampade ciao a tutti